Aspetta, aspetta che la riprendo bene, guarda, è tutto preciso, guarda dentro, qui c'è qualche cliente, è bella, è chiusa, amici. Il cancio di traino è quello là che si sgancia, capito? Ah sì, sì, bella. C'è anche il climatizzatore, c'è anche il climatizzatore, no? Che importante è questo? Un po' una bottarella qui, questa qua, sì, ma solo il paraurce, come carrozzeria guarda che non è nulla, no, no, è bella. E sa com'è stata fatta? Ponto il fumallo là, toto indietro, bella, è benzina, è di turbodieser? Sì, turbodieser.